Musica 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 Päivänpelaista poistosta Kestäässä noita juttuja niin olen ihan saanut niitä toimimaan Mutta pelataan nyt kuitenkin tätä Maisa moika-arjaa sitten Nyt on sitten mahdollinen modea Varsinty e poi tommo tuoi muodivideo il meisesti tuos 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 torstai keskiviittoa viimeis pelasio videoinnissa vanhakan vannik tuohon ... 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 C'è questo qui è un po' Si c'è un po' di più di più Se non si è un po' di più in questo modo C'è un po' di più C'è un po' di più Sì, questo è il modio. Sì, c'è anche qui. C'è il modio. e questo è quello che il multimodisysteme si è piaciuto qui si è piaciuto qui si è piaciuto qui ci sono C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che 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 c'è un po' Oh, ovvio che vi è s'invaja che il vino c'è? Qui c'è il vino, quando c'è il viso si è venuto? Sempre qui, c'è il un kietin, viene così, se è più di più di più. Mi ha visto che non c'è anche un uomo shop è il compagno. Mi ha centrale anche un apucano. C'è un po lo sappiano, non c'è un le c'è un pollo che io solito. Non c'è un column che miasso, non vado a capo per percettare. Asi... ...è un po' un pallone un pallone? Posso parlare di passi? Non lo... Ehi, c'èo, c'èo è un pallone? Noni, c'èo, c'èo. Noni, c'èo, c'èo? Noni, c'èo, c'èo. C'èo, c'èo... C'èo c'èo? C'èo? C'èo c'èo? ... .. .. .. .. .. .. ...ma... ...ma raiopitare di... ...ma raiopitare di... ...tei tuttavia tuossa ugo... ...ma raiopitare... ...mitèci... ...pila tämän raho tonne koneese... ...mihdi hetki tässä... Grazie a tutti. 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 a tutti.